Non cercano colpevoli ma solo risposte i lavoratori dell'Oial Sicilia che si sono riuniti in un presidio di protesta davanti la sede dell'ente di formazione professionale in via Marchese di Villa Bianca 70 a Palermo. C'è chi solo per quest'anno avanza otto mesi di stipendio pur continuando a lavorare. Con gli arretrati degli anni passati poi si arriva anche a 24 mensilità pregresse mai percepite, una condizione che ha portato sull'astrico i dipendenti e le loro famiglie che adesso chiedono di ricevere quanto gli spetta. Dal primo aprile non prendiamo più soldi e luce per vedere altri soldi a quanto pare non ce n'è perché regolarmente ci dicono che devono pagare i debiti. Ci siamo fatti 5 mesi di cassa integrazione, i primi da giugno a ottobre, però qua realmente all'80% non capisco il perché ancora siamo pagati fino a marzo. Vogliamo la verità. Noi continuiamo a lavorare fino ad oggi, appunto noi siamo dipendenti dell'OI e le siamo obbligate a venire al lavoro, però senza percepire uno stipendio, un euro a conti. Non riusciamo più a mangiare, però loro nello stesso tempo se ne fregano. Abbiamo chiesto chiarimento all'assessorato, l'assessorato dice che appunto ad oggi per quanto riguarda il nostro ente ha erogato l'80% del finanziamento. Le cifre ben chiare non ce le ho perché non sono riuscita a visionarle bene, però credo che siano intorno ai 19 milioni e 600 mila euro. Questo periodo da giugno 2012 ad oggi ha procurato molte ansie a noi, fino addirittura ad avere tolto da parte della regione l'accreditamento perché l'Oial risulta debitore nei confronti della regione. Ma in ogni caso, anche quando la regione decurta delle somme per il recupero coatto, per i debiti del passato, perché dobbiamo pagare noi?